Il nome della compagnia teatrale la dice già lunga, ridi che ti passa, e il monito più che un invito di Piero De Lucia, storico attore della commedia pugliese, che da domani calcherà di nuovo il palcoscenico con il suo nuovo spettacolo, La burlesca profezia. Una commedia in due atti scritta e interpretata dallo stesso De Lucia, in compagnia di un cast d'eccellenza interamente made in Bari. Ad accompagnarlo sul palco, tra le splendide novità, le attrici Lia Cellamare e Lucia Coppola. Ci dobbiamo aspettare tante risate, perché noi vogliamo far divertire il nostro pubblico, il mio pubblico in particolare, perché è un momento particolare per il pianeta, per noi, per tutto il mondo, per la gente della nostra nazione, per la Puglia, per tutti. Quindi noi vogliamo portare un sorriso qui sul palcoscenico del teatro dove faremo la commedia e cercare di far divertire il più possibile le persone che verranno a vederci a teatro. Più di un mese di programmazione, a partire dal 18 febbraio e fino al prossimo 19 marzo, ospitati dal teatro dell'Istituto Preziosissimo Sangue di Bari. Una burlesca profezia tutta da ridere e che non mancherà di sorprendere con frizzanti colpi di scena. Da domani, 18 febbraio, noi saremo a teatro, precisamente il teatro del Preziosissimo Sangue a Bari, in via Scipione l'Africano 272, praticamente a fianco dove sta Barnavold, come si diceva Barnavold, la gazzetta del Messoogiorno. Praticamente noi staremo tutti i sabato e tutte le domeniche fino al 19 marzo, quindi un mese di programmazione, il sabato alle 21, la domenica alle 19.30. Grazie.